Buon pomeriggio dal Tg del Friuli Venezia Giulia. È stato il Premier Matteo Renzi a firmare poco fa a Roma l'accordo di programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della ferriera a Servola. Subito le parole del Presidente del Consiglio in questo servizio di apertura di Francesca Vigori. Grazie ad un investimento privato e in parte pubblico abbiamo salvato 410 posti di lavoro diretti e un migliaio nell'indotto, un segnale di speranza in una delle aree colpite dalla crisi. È stato lo stesso Presidente del Consiglio Matteo Renzi a presentare a Palazzo Chigi con queste parole l'accordo di programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell'area della ferriera a Servola. Documento firmato anche dalla Presidente della Regione Serracchiani, dal Ministro dello Sviluppo Economico Guidi, dal Ministro dell'Ambiente Galletti, dal Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste Monassi e da Giovanni Arvedi, Presidente della Siderurgica Triestina, la società controllata da Finarvedi che ha rilevato di recente lo stabilimento siderurgico. L'operazione comporterà la realizzazione di interventi di risanamento ambientale e investimenti per complessivi 172 milioni di euro tra il 2014 e il 2016 per il futuro produttivo e occupazionale del sito industriale triestino. L'accordo di programma è indispensabile per chiudere definitivamente l'attribuzione delle competenze pubbliche e private negli interventi. Questo passaggio, a pochi giorni dalla partenza dei lavori del primo stralcio della piattaforma logistica di Trieste, sbloccherà anche un'altra parte del porto inutilizzata, quella appunto della ferriera, e l'auspicio è che sia propedeutico al reperimento di fondi pubblici per il secondo stralcio. Un lavoro di squadra, ha osservato la Serracchiani, ha permesso, dopo un anno, di trovare la soluzione per quell'area. Questa è la fotografia migliore di un paese che cerca di risollevarsi e l'Italia, ha detto la Serracchiani, non può rinunciare alla siderurgia che è fondamentale.